Capitolo 15 Senza tener conto delle diverse qualità degli uomini che frequentava, non si può certo dire che la circostanza per Taeko fosse rara. La cosa che temeva di più era la possibilità di restare incinta, dunque invitava sempre i suoi partner a prendere le precauzioni del caso. Era un momento delicato e lo diventava sempre più, a mano a mano, che pensava come dirlo. Stufa di tutto questo, aveva deciso di dichiararlo il prima possibile, senza tanti giri di parole. La replica di Senkichi fu del tutto inaspettata. Eh? Io quella roba non ce l'ho. Una leggera collera fece sì che Taeko si lasciasse andare a un commento che avrebbe fatto meglio ad evitare. Ma allora, a dispetto delle apparenze, sei un dilettante. Senkichi ammutolì e Taeko percepì il pericolo di quel silenzio. Quindi si armò di coraggio per andare oltre con un gesto volgare e farla finita. Bene, prendi questo. Senkichi, senza alcuna fretta, raccolse quel che Taeko aveva tirato fuori dalla borsa e scagliato sul letto. Avevi calcolato tutto, eh? Che sorpresa! Una vera sgualdrina! E così, fin dal principio, i due iniziarono a ferirsi a vicenda. Ma l'animo umano è complesso. Più si facevano male, più il loro legame diveniva autentico. Ecco perché Taeko, benché provasse terrore, rabbia e disgusto ad ogni battuta, allo stesso tempo sentiva che dietro quelle parole c'era una dolcezza che mai nessuno al mondo avrebbe scalfito. Così come accade quando si ascolta una musica popolare, quelle repliche le davano una frustata che le procurava una bruciante eccitazione. Il ricordo di essere stata scambiata per una donna di strada davanti alla sala giochi la inebriò. Nell'istante in cui stava comprando un uomo, si figurò se stessa come una prostituta. I due, svestiti, si scambiarono sguardi furenti. Taeko lo osservava bene. Che delusione se Senkichi avesse appeso con cura la sua giacca elegante all'attaccapanni, se fosse stato attento nello sfilarsi ad uno ad uno gli strati di indumenti. Invece, fortunatamente, con estrema virilità, si sbarazzò della cravatta, gettò per terra i calzini e sistemò senza cura giacca e pantaloni sullo schienale di una sedia. Era nudo. Il suo corpo abbronzato era giovane e puro. I suoi muscoli pieni e dolcemente arrotondati. Era infinitamente più bello così che vestito. Ancora in piedi, Taeko si lasciò stringere da quel corpo nudo. Senkichi, con le sue mani fredde e ruvide, le fece scivolare le bretelle della sottoveste. Si sentì pervasa da un piacere terrificante, come se tutto il suo corpo rabbrividisse. «Non dire niente! Ti prego, non dire niente!» Lo implorava con il palmo della mano premuto sulle labbra di lui. Con il carattere del ragazzo non era una cosa di cui preoccuparsi. In ogni caso, lei non voleva sentirsi rivolgere complimenti affettati. Le mani ruvide del ragazzo la carezzavano dalle spalle fino ai fianchi. Taeko desiderava un bacio e lui la baciò. «Quest'uomo è un depravato! Quest'uomo è un depravato!» Taeko continuava a ripetere dentro di sé quasi un esorcismo. E più si ripeteva quelle parole, più la pelle dell'uomo diveniva pura e più si radicava in lei la sensazione di non aver mai incontrato prima tanta purezza. Stretti l'uno all'altra, i due si lasciarono cadere sul letto. Fu a quel punto che accadde una cosa di rara eleganza, una cosa che non si discontra neanche nei giovani delle migliori famiglie. La carne di Senkichi prese a trasudare grazia. Se all'inizio Taeko, come per mantenere un certo distacco, aveva ripreso il vizio di fare paragoni con le esperienze passate, ben presto tutto fu dimenticato e nel momento decisivo non fu più possibile alcun genere di confronto.